Io non ho paura per carattere, quindi da questo punto di vista non ho paura. Io credo che il protocollo che è stato stilato dalla federazione, di nuovo di rimando alla circolare del Ministro della Sanità, sia un buon protocollo. Sono evidentemente documenti vivi, quindi che vengono aggiornati in base alle casistiche che si presentano per diventare quanto più vicini all'essere perfetti. Quindi questo è normale, viviamo tutti una situazione atipica, stiamo gestendo non un campionato di calcio, ma stiamo gestendo la vita sociale nel suo contesto più ampio. Ogni industria, la manifatturiera, i servizi, l'intrattenimento con la gestione di una pandemia e dobbiamo evidentemente fare il meglio possibile. Quanto è stato fatto fino a qua dalla federazione da un lato e per quello che ho visto io dall'UEFA per quanto riguarda le competizioni internazionali, è un lavoro egregio che mi lascia veramente sereno sul fatto di poter completare la competizione da qui alla fine dell'anno. Per quanto riguarda le norme sportive, invece sono altrettanto chiare, le norme sportive dicono che se una squadra non si presenta va incontro a delle sanzioni disciplinari. Quindi sotto questo punto di vista il giudice sportivo si esprimerà domani e da lì scattureranno ulteriori riflessioni in base a quella che sarà la decisione del giudice sportivo. Non era ieri che mi sono sentito con De Laurentiis, quindi questo lo sottolineo, era un paio di giorni fa, due o tre giorni fa e la mia risposta è stata molto breve. Io mi attengo ai regolamenti che ci vengono dati. Io mi sarei comportato esattamente come ci siamo comportati, ovvero attenendoci al protocollo della federazione che è stato scritto di rimando alla circolare del ministro della Sanità. Quindi io mi sarei comportato in quel modo lì e non ho motivo per pensare che non sia stato fatto, quindi sicuramente ci sarà spazio per una revisione, come dicevo prima, di un documento vivo. Per quanto riguarda il resto della domanda evidentemente è prematura e non penso che in questo momento si debba pensare ad alcunché che non a completare il campionato, semplicemente tutti quanti assieme rispettando le indicazioni che ci sono date dalle autorità competenti, nel nostro caso la federazione di concerto con il ministero della Sanità. Grazie.